Qual è la situazione al momento per quanto riguarda la faventata fusione delle Camere di Commercio? C'è stata anche una dichiarazione da parte del Presidente dell'Aquila, insomma lui andrebbe bene? La situazione è ancora in stand-by, la partita è tutta nelle mani della Regione Abruzzo che dovrà decidere un percorso per entrambe le Camere. Noi stiamo aspettando intanto che la Camera dell'Aquila, a cui abbiamo mandato una lettera al Presidente, così come noi in maniera prudenziale attenda l'eventuale dichiarazione e decisione della Corte Costituzionale o l'eventuale decisione politica del Governo che dovrà necessariamente rimettere le mani su una riforma che così come è stata pensata, impostata e approvata sicuramente verrà dichiarata in Costituzionale. Per cui siamo in attesa di, noi abbiamo detto che è giusto e opportuno in maniera prudenziale di fermare l'iter di fusione in corso perché vogliamo capire pure che tipo di impianto normativo ci sarà da qui a qualche mese. Fermarsi non significa annullare, significa fermarsi in maniera prudenziale perché l'iter, ripeto, di fusione non si va a inficiare se ci si ferma. Tutto qui speriamo, ci auguriamo, che anche gli amici aquilani in maniera prudenziale come noi, i terramani, facciano la stessa cosa. Ecco, in caso avvenisse poi concretamente questa fusione anche dalla Regione qualcuno ha detto che comunque la fusione verrà fatta. Quale sarebbe la soluzione alternativa per non perdere la sede di Teramo? Ma intanto io ho detto che anche nell'eventualità della fusione la sede di Teramo non sarà persa. A Teramo rimarrà la sede, rimarranno le funzioni, rimarranno il personale, rimarranno le risorse, tutte, perché nell'accordo c'è anche che le risorse prodotte dal territorio a Taramano saranno ridistribuite in termini di interventi sul territorio a Taramano. Quindi non si perderà nulla. È chiaro che in una riforma fatta male è l'impianto che sarà, diciamo, oggi non è chiaro per quanto riguarda sia la Costituzione che il Consiglio che la Giunta. Quindi la preoccupazione che qualcuno ha, che Teramo anche in caso di fusione verrà a perdere qualcosa in termini di funzionalità e di risorse non c'è, non esiste, perché è stato già definito da un accordo. Quello che chiediamo noi abbiamo chiesto, siccome, ripeto, l'impianto normativo è stato dichiarato incostituzionale, il Tar, l'ha rimesso la decisione alla Corte, aspettiamo per vedere quello che succede.